Non dobbiamo fare scadere i nostri conti formazione dei fondi interprofessionali. Ormai tutte le aziende per fare la formazione continua utilizzano sia fondi impresa che fondi dirigenti. Noi come Skillab siamo a loro disposizione prima di tutto per dare questo forte messaggio non fate scadere i vostri soldini. Dovete utilizzarli, dovete insieme a noi presentare dei nuovi piani entro la fine dell'anno. Quindi noi siamo a disposizione per individuare con voi ulteriori fabbisogni e esigenze in modo tale che vi possiamo aiutare a non sprecare queste risorse così importanti per la crescita delle vostre persone. Grazie a tutti.